Io sono il papà di due splendide fanciulle che hanno frequentato da sempre la British Council. Hanno iniziato già dalla prima elementare, quindi da cinque anni. Quando avevano cinque anni, tutte e due sono contentissime. Mi piace anche il contatto che c'è tra l'insegnante e il bambino, perché comunque riesce a coinvolgerlo. Impara giocando e gioca imparando, quindi è un sistema molto efficace. Ho scelto il British per mio figlio, perché già era una scuola conosciuta, perché sia io che mia moglie. Qualche lustro fa abbiamo frequentato corsi proprio al British Council, perché ci è sempre piaciuto il modo di come insegnano, quindi la modalità dell'insegnamento e soprattutto il clima che si instaura all'interno della struttura e della classe, insieme al docente. Il mio ministero mi ha fatto fare dei corsi per rafforzare il mio inglese. Con il mio inglese rafforzato dal British Council, ho potuto partecipare a Twin In Projects con amministrazioni straniere. Il miglioramento è stato notevole per me. Quindi poi con mia moglie abbiamo deciso di mandare il bambino, che aveva necessità di rafforzare il proprio inglese, al British Council.